Grazie a tutti. Grazie a tutti. Temperatura 23 gradi fuori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andora arrivo alla stazione nuova. Adesso passiamo di fianco all'autostrada fino a Imperia. Lasciamo la linea vecchia. Eccola lì. La linea vecchia che si stacca. Vedi, là non c'è più il binario. Andora, nuova stazione. Eccolo la linea vecchia. Eccolo. Eccolo la linea vecchia. Adesso lo senti come viaggia. Eccolo la linea vecchia che si stacca. C'è subito Diano. Cervo San Bartolomeo. Cervo San Bartolomeo si la passa ma nell'entroterra. Passa lungo l'autostrada. Volendo comunque ci sarebbe una stazione lì. Però non l'hanno fatta. Ecco la nuova galleria stile autostrada. Nuova galleria stile autostrada. Corse. Ma so che ora si stacca. Eccolo la linea vecchia. Di Vila. Il terno si è pubblicato. Che c'è ancora la linea vecchia. Eccolo la linea vecchia. Non ho ancora visto niente Qua sono solo i 100 125 130 150 150 150 150 150 150 150 Grazie a tutti. 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 Diano, nuova stazione. No, che piano, nuova stazione. Sì. Là c'è il depuratore di Diano Marina. E qua ci eravamo venuti in macchina, se non ti ricordi. Quella è l'autostrada. Diano Marina, stazione è l'autostrada. Diano Marina, stazione nuova. Sì. Questa è la stazione nuova. Tagiarma. Non c'è più Porto Maurizio. Non c'è più Imperia Porto Maurizio. C'è solo più la stazione nuova di Imperia a Aoneglia. Basta. Sanremo. Bordighiera. Siamo quasi arrivati. Fra un po' sì. Cos'hai? Qui c'è un colpo di sonno. Ah sì? Il treno fa venire sonno, ne? Un po'. Sì. Il treno si rilassa. Sì. Partito sparato. Sgomma pura. Qua te l'avevo detto che corrono. 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 155 160 il regionale non può fare di più il regionale non può fare di più l'imperia nuova stazione la nuova stazione di imperio aneglia solo gunteria la nuova stazione di imperio aneglia 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 la nuova stazione quando sono incazzato che accelero di brutto prendessi l'intercity qua poi ancora metti allora in più 180 con l'intercity dopo c'è vittaggi arma con l'intercity con l'intercity con l'intercity con l'intercity con l'intercity con l'intercity 160 sembra una turbina sembra una turbina 160 150 155 160 160 160 Te l'avevo detto che qua filavano. Sembra a me quella vecchia polta di Diego che avevamo fatto il 160. 160, 160 sto facendo, 160. bello! mamma! E tu puoi? Sono pronta! Cosa? Non venire la veloce! è proprio al massimo il massimo questo i 160 e 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 molla andava come sulla torino-milano sulla torino-milano vanno così 160 e e e e e e e ha recuperato 5 minuti e e e armali taggia taggia arma poi c'è sanremo bordighiera e e e e e e e e finito qua forse sì e e e e qua qua invece era già dal 2001 che c'era taggia arma la stazione qua arrivando dal raddoppio nuovo è entrato sul raddoppio vecchio ai 160 e e e e e e e un po' incazzatino e un po' incazzatino un po' e l'hanno fatto l'hanno fatto arrabbiare e l'ho e e l'ho 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 e l'ho l'ho l'hanno Grazie a tutti. 150. 2 sotterranie a Sanremo. Si. Si. Sì, c'è quello pubblico, ma non è il massimo. Ueppo. Ueppo. Sì, c'è quello pubblico, ma non c'è nessuno, ma non c'è nessuno, ma non c'è nessuno, ma non c'è nessuno. Qua? Eh, qua sono te con mia sorella. A Sanremo ha letteralmente inchiodato. È un po' come Torino, vero qua? Sì, è come Torino-Portasusa. Questo è il tunnel di 18 chilometri cui ti dicevo, da Arma di Taggia fino a Ospedaletti. Sì. Quello fanno il festival, no, qua? Sì. Quello fanno il festival. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.